cari amici pronti per una nuova puntata oggi siamo in un mondo d'illusioni abbiamo qui questo mimo meraviglioso una puntata a pua anzi a quadretti bellissimo straordinario batta 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 ma lo sai che ho conosciuto dei panettieri e sono delle persone veramente pessime terribili infatti se li conosci lieviti benny cosa ci fanno insieme 12 eschi mesi un eschi anno e lei cosa faceva picasso in discoteca il cubista alberto cosa dice un camionista impotente non va più in tir dove vivono i muratori a malta erica erica qual è la malattia che colpisci di j l'arne al disco scusi lei ma con disegnino così come dove pensa di andare e mi sa che forse ha ragione la signora salutiamo e ci vediamo la settimana prossima per una nuova puntata di risate di strada ciao ciao